Ci ha raggiunto Filippo Berra, consumiamo subito la domanda di Luca Esposito così non la farà dopo perché hai sentito quello che ha detto, sei d'accordo con la sua disamina, ha detto che il Benevento da grande squadra se vuole essere una grande squadra doveva vincerla, ha detto che l'Avellino l'ha vinta anche in maniera importante ha detto che ci sono stati gli errori tuoi, gli errori di Tosca, gli errori di Nunziante e quindi chiaramente sottolineava la parte negativa di una partita che è stata rimontata col doppio vantaggio Per quello che al mio punto di vista abbiamo fatto una gran partita su un campo difficile per carità l'Avellino può aver vinto ma non vuol dire niente perché ogni partita ha la sua storia altrimenti dovremmo andare a valutare le partite che abbiamo vinto 5-0 e vedere contro chi hanno vinto quelle che abbiamo battuto 5-0 questo discorso io non lo condivido assolutamente ci sta, stavamo vincendo fino all'ultimo secondo, potevamo far meglio sull'ultima palla certamente non l'abbiamo portata a casa per poco però la cosa importante è che secondo me rimaniamo primi a più due ed è questa la cosa che ci deve dare grande fiducia e ripartire lunedì per fare un altro grande risultato questa è la cosa da guardare, il resto sono cose che analizzeremo, miglioreremo ma io sono fiducioso Un po' il difetto del Benevento, se sei d'accordo forse soffre le palle alte Sì, allora innanzitutto loro sono una squadra che crossa tanto, lo sapevamo, l'abbiamo analizzato e sapevamo che era un punto di forza loro e noi potevamo fare meglio sicuramente forse sì, ne abbiamo sofferto qualcuna ma ci lavoriamo in settimana e miglioreremo sicuramente anche su questo Se fossimo perfetti non sarebbero umani per cui è ovvio che commetteremo degli errori li commettiamo adesso, li abbiamo commessi in passato e ne commetteremo ancora lavoriamo per migliorarli è una cosa che secondo me dobbiamo analizzarla dal punto di vista di squadra dal punto di vista di squadra dobbiamo fare meglio, non c'è l'errore del singolo secondo me per cui tutti dobbiamo fare meglio per evitare di ricommettere questi errori poi ripeto, abbiamo giocato su un campo difficile contro un avversario forte, all'altezza non vuol dire niente se l'Avellino ha vinto qua ci sono tante partite, potremmo dire la nostra è anche vero che è stata una partita a viso aperto tante volte anche il Crotone è andato al tiro nel primo tempo non è riuscito a prendere le misure però si parla spesso, lo diceva anche, lo ha detto tante volte Gaetano Oteri la difficoltà di questa squadra nella gestione dei momenti mi spieghi che cosa si intende per gestione dei momenti il problema sul 2-1, risettiamo il primo gol la squadra si è abbassata troppo la squadra ha provato a giocare e invece doveva difendersi troppo cosa avrebbe dovuto fare secondo te il Benevento? come gestione di momento più possesso palla, meno giocate forzate non abbassare il baricentro, ce lo spieghi? appartendo al fatto che l'abbiamo indirizzata sicuramente nel modo giusto perché siamo andati 2-0 su un campo difficile senza rischiare troppo poi abbiamo subito un gol e stiamo considerando anche un turno infrasettimanale quindi entrambe le squadre erano più stanche, i giocatori erano più stanchi però ci è mancato veramente nulla per portarla a casa abbiamo fatto le cose giuste e ripeto, la cosa importante che dobbiamo guardare è che siamo primi a più 2 quindi questo ci deve dare grande fiducia per continuare su questa strada Auteri si è anche un po' arrabbiato quando ho toccato il punto della psicologia io ho detto ma mica ci può essere un contraccolpo per come è arrivato il pareggio considerando che ci sta l'antagonista Avellino che non ne sbaglia più una lui ha detto non esiste proprio, mentalmente siamo già avanti ma no perché dobbiamo vivere questo momento con grande fiducia stiamo facendo un grande campionato, rimaniamo primi ed è questa la cosa importante, l'Avellino sta facendo un grandissimo campionato ed è comunque a meno 4 giusto, a meno 4 da noi quindi è questa la cosa che dobbiamo guardare in questo momento dobbiamo fasciarci la testa prima di cadere dobbiamo continuare su questa strada e continuare a portare a casa punti poi alla fine si tireranno le somme e si vedrà